Un saluto dalla redazione di Telemolisi. In apertura del nostro telegiornale c'è la politica ancora con le reazioni a quanto accaduto ieri in consiglio regionale con la maggioranza che è andata sotto sulla mozione relativa al piano operativo della sanità. Il giorno dopo quella bocciatura per la maggioranza parla il presidente Toma che dice il post non si tocca può cambiarlo solo il governo. Toma rimanda al mittente anche le richieste di dimissioni. Resto al mio posto dice il presidente della regione. Servizio di Pasquale Di Bello. Il giorno dopo la bocciatura del programma operativo straordinario da parte del consiglio regionale il presidente della regione commissario ad acta per la sanità Donato Toma non arretra. Il documento non si tocca tagliacorto. A cambiarlo dice può essere solo il governo unico interlocutore del commissario. Si conferma quindi la spaccatura verticale tra Tome e il consiglio regionale sancita ieri dal voto trasversale che ha messo insieme le opposizioni ufficiali di 5 Stelle e PD e quelle di complemento rappresentate dai due rappresentanti di Fratelli d'Italia Iorio e Romagnuolo ai quali nella circostanza si sono aggiunte le sponde del consigliere Cefaratti di Orgoglio Molise che ha lasciato l'aula al momento del voto e l'assenzione del presidente del consiglio regionale Micone in forza all'UDC. E' finita 10 a 9 un K.O. tecnico del quale tuttavia Toma non intende tenere conto puntando il dito contro le precedenti amministrazioni regionali. Il consiglio regionale per merito per demerito di qualcun altro negli anni passati è stato esautorato da ogni potere in materia sanitaria e esiste un commissario che risponde al governo ma esiste anche un presidente che ascolta per cui una mozione che non ha alcuna validità amministrativa ma comunque un indirizzo politico viene ricepita dal presidente che ascolta se ci sono degli elementi che possono essere utili alle decisioni poi del commissario questi vengono presi in considerazione. Se non ci sono elementi, quella è una mozione così tranciante che non può avere effetti immediati sull'azione di un commissario se non ci sono questi elementi il commissario si relaziona col governo e poi prenderà delle decisioni. E' imbarazzante ricevere lezioni di sanità da chi ci ha portato al commissariamento ed è imbarazzante ricevere lezioni di commissariamento da quelli che erano in amministrazione precedente alla mia che ha tagliato, chiuso diversi ospedali. Io non ho tagliato niente, non ho chiuso nulla. Quindi di Revoca non se ne parla? Ma per ora no. Oltre al dato tecnico, quello della bocciatura del post, ne emerge un altro, quello politico con una maggioranza di centrodestra in frantumi un dato che non si può ignorare, destinato a provocare ripercussioni. Il gruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio ha votato conformemente alle indicazioni del presidente per cui quando si parla di Fratelli d'Italia si devono fare dei distinguo necessari. Per quanto riguarda l'espressione di voto di alcuni componenti della maggioranza va registrato questo disagio. Va capito il disagio anche alla luce del fatto che la mozione era composta di due parti. La prima parte che è stata approvata a maggioranza 19 con l'assenza di un consigliere e l'assenza di un altro consigliere. Poi c'è una seconda parte che è stata rigettata. Forse c'è qualche relazione, dobbiamo studiare queste relazioni. La seconda parte riguardava un tema molto caro di 5 Stelle che era la revisione del rapporto con i privati. Probabilmente alla maggioranza del consiglio quel tema non interessava ed è stato rigettato. Quindi diciamola tutta. La maggioranza ha approvato una prima parte della mozione e ha rigettato una seconda parte della mozione. Infine il tema delle dimissioni chieste a gran voce dalle opposizioni. Non ci penso minimamente, dice Toma. È una storia vecchia. Sono tre anni e mezzo che vengono richieste. Le opposizioni stanno chiedendo le mie dimissioni da tre anni e mezzo. Continuino a chiederle, almeno faranno qualcosa di comprensibile. E dunque le opposizioni, si diceva nel servizio, chiedono le dimissioni del presidente Toma. Una richiesta ribadita anche questa mattina dal Movimento 5 Stelle. I consiglieri pentastellati hanno tenuto una conferenza stampa proprio in consiglio regionale. Sentiamo. Il giorno dopo la sconfitta della maggioranza in consiglio regionale, Movimento 5 Stelle incassa il risultato e va all'attacco di Toma. I consiglieri del gruppo incontrano insieme la stampa e chiedono al presidente commissario di dimettersi. Primiani sottolinea innanzitutto il segnale arrivato dall'Aula. Innanzitutto è un messaggio politico. Il messaggio politico che ha espresso l'Aula è che il consiglio regionale e la maggioranza non vuole Toma come presidente. Non vuole accettare in maniera supina la metodologia adottata sino a questo momento dal presidente Donato Toma. È necessario aprirsi al confronto e questo il consiglio regionale ieri lo ha ribadito in maniera netta e chiara. Per Greco la maggioranza ora non esiste più. Toma deve rendersi conto che non ci sono più le condizioni per andare avanti. Chiaramente il presidente Toma deve prendere atto che non ha più una maggioranza. Deve prendere atto che il Molise ha bisogno di solidità politica in questo momento post-pandemico. E quindi deve semplicemente rassegnare dimissioni e ripeto prendere coscienza del fatto che non ha più i numeri per governare. Ci sono le condizioni per la mozione di sfiducia in questa fase? Secondo me non è nemmeno necessaria. Io mi aspetto che in queste ore arrivino le dimissioni perché quello di ieri di fatto è stato già un voto di sfiducia. Noi abbiamo presentato due mozioni da inizio della legislatura proprio di sfiducia a Donato Toma e ogni volta lui è riuscito a ricomporre. Diciamo che le nostre mozioni di sfiducia gli altri le hanno utilizzate per posizionarsi dentro la giunta o per chiedere qualcosa al presidente Toma. Sinceramente nemmeno a questo gioco voglio giocare. Toma deve prendere atto che la sua legislatura è semplicemente finita. La consigliera Manzo ha evidenziato invece le tante questioni che nel programma operativo della sanità vengono rinviate al prossimo anno e restano per ora senza soluzione. De Chirico invece ha sottolineato che il voto sulla mozione presentata dai 5 Stelle è l'ennesima dimostrazione che il centrodestra non può governare nulla perché non è mai stato unito. Infine Nola che parla di figuraccia nei confronti del premier Draghi. Toma ha convinto tre ministeri più la conferenza delle regioni più il premier Draghi che lui era il miglior gestore della sanità in Molise. Vi rendete conto che ci ha fatto fare una figuraccia terribile. Attenzione a parlare solo di sanità perché noi i guasti li stiamo registrando anche sugli altri settori. Ma certo se abbiamo un presidente che fa atti contraddittori, un'aggiunta che non opera, ma che speranze abbiamo noi di rimettere in moto il Molise? E su questa vicenda interviene anche il Partito Democratico. Toma diventa commissario alla sanità, dice il segretario Vittorino Facciolla, e la sua stessa maggioranza lo sfiducia. Forse questa terra ha ancora una speranza di salvezza. Il governatore prenda atto della sconfitta, invece ha dichiarato la capogruppo d'Ema Michela Fanelli, e di come non abbia più una maggioranza politica. che ammetta che il POS da lui adottato, altro non è che un documento vuoto, vecchio e schizofrenico, davvero prende atto degli errori commessi, conclude La Fanelli, capisca di essere rimasto come una nave senza motore, in balia di una tempesta. E della vicenda, di quanto è accaduto in Consiglio regionale, ha parlato oggi anche l'ex presidente Iorio, che ha tenuto una conferenza stampa a Isernia, la seguita per noi Enzo Di Gaetano. Conferenza stampa di Michele Iorio, dopo quella che è stata una vittoria ieri in Consiglio regionale, Iorio? Beh sì, ha presentato un emendamento sostitutivo di quello dei Cinque Stelle, che sostanzialmente è stato quello che poi è passato, ha avuto i voti necessari per passare in Consiglio. L'emendamento chiedeva, e quindi il Consiglio ha chiesto, di annullare quel piano sanitario, perché è illegittimo dal punto di vista costituzionale. C'è una sentenza della Corte Costituzionale che parla chiaro, il piano operativo sanitario non è un atto amministrativo qualsiasi, è un atto complesso. Credo che questo segnale sia utile per far capire al presidente Toma che la deve smettere di ritenere di essere il padrone del vapore, insomma, cioè lui decide, lui fa, lui determina tutto. Addirittura siamo arrivati alla barzelletta finale, adotta un piano e poi fa una lettera all'ASREM di non applicarlo. Insomma, io credo che veramente se venisse sulla stampa nazionale verrebbero i carabinieri. Ci sono due aspetti da considerare, l'aspetto politico, il significato politico della mozione approvata e il significato pratico. Allora, significato politico, Iorio. Il significato politico è che Toma non ha più la maggioranza, che sarebbe il caso di dimettersi per consentire al Molise di svolgere le nuove elezioni nel più breve tempo possibile. Il centrodestra ha un problema di omogeneità al suo interno. Io credo che ci sia da lavorare molto sulla ricostruzione del centrodestra, che passa attraverso nuovi personaggi, nuove iniziative, nuovi programmi e che sappia interpretare le esigenze dei molisani. Io penso che questo lavoro è iniziato a disernia e finirà con le prossime elezioni regionali. Aspetto pratico. Che succede adesso? Ospedali paralizzati, sanità paralizzata, non c'è un post, non c'è personale. Ecco, vi siete posti questo problema. Che succede ora negli ospedali? Ma questo dobbiamo chiederlo a Toma perché fino all'altro ieri succedeva quel che succedeva negli ospedali, cioè stavamo nelle condizioni di adesso. Poi lui invece di aprire un confronto con il Consiglio, con il personale, ha furbescamente ritenuto di approvare il piano e cominciare a parlare di quello del 2023 per prendere in giro ulteriormente i molisani e promettere tutto a tutti, ha voluto fare il furbo e adesso è stato smentito. Di fatto succede quello che succedeva tre giorni prima che lui approvasse questo piano. Esattamente nulla. Ecco, quindi esattamente nulla. Ma la sanità è nel caos più completo, Iorio. Quello le volevo chiedere. Come se ne esce? Ma guardi che quando dico che la Corte Costituzionale ha ritenuto illegittimo il piano, la Corte ha annullato il piano di frattura. Non è che è stata una sentenza così, è una sentenza sul ricorso fatto nei confronti del piano di frattura. Purtroppo è arrivato a distanza di tre o quattro o cinque anni e naturalmente noi non abbiamo né il piano frattura né il piano Toma. Siamo rimasti all'epoca Iorio e quindi sostanzialmente è da quella che bisogna ripartire. Vorrei vedere come faranno a peggiorarla quella situazione. Sempre a proposito del POS, il sindaco di Campobasso Roberto Gravina ha annunciato oggi che il Comune ha intrapreso un'azione amministrativa per impugnare il piano sanitario. Abbiamo conferito un mandato esterno ad uno studio privato. La nostra azione, ha spiegato il primo cittadino, vuole tutelare e preservare i servizi sanitari che vengono offerti ai molisani nelle strutture sul territorio a partire dal Cardarelli che continua a perdere il suo ruolo di ospedale pubblico regionale AB. Nelle prossime ore, ha concluso il sindaco, si valuterà quindi se depositare o meno il ricorso. Intanto, sempre a Campobasso, il Forum per la Sanità Pubblica ha indetto una manifestazione di protesta per contestare e respingere il piano operativo sanitario valutato da Toma. Stamattina l'iniziativa è stata presentata nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta in municipio, state vedendo le immagini. La protesta si terrà dalle 17 di dopodomani, giovedì, in Piazza Vittorio Emanuele. Sarà preceduta da un corteo che partirà da Piazza San Francesco alle 16. Chiariamo, ha spiegato il Presidente del Forum Italo Testa, che la manifestazione non ha alcun carattere partitico o elettoralistico, vuole dare voce ai cittadini attraverso i comitati che li rappresentano. E adesso la cronaca giudiziaria. Sono arrivate le prime condanne per l'operazione antidroga Piazza Pulita, molti di voi la ricorderanno, condanne per otto imputati a più di 50 anni di carcere. I dettagli con Giovanni Di Tota. Il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Campobasso, Veronica Dagnone, ha emesso otto condanne per altrettanti imputati nell'indagine antidroga Piazza Pulita, avviata in Molise a marzo del 2018 e chiusa a maggio del 2020 con numerosi arresti. Le sentenze riguardano gli imputati che si erano avvalsi del rito abbreviato. Sono stati condannati appena che vanno da due anni e sei mesi a dieci anni e dieci mesi per un totale di circa 53 anni di reclusione. L'operazione, che fu condotta dai carabinieri e dalla Guardia di Finanza e coordinata dal procuratore di Campobasso, Nicola D'Angelo, consentì di bloccare un traffico di stupefacenti nella provincia e affermare sul nascere il tentativo della criminalità organizzata campana di allargare al Molise il territorio di interesse. Furono in particolare individuati tre clan che trafficavano droga e praticavano estorsioni e minacce a mano armata, oltre al riciclaggio e al riempiego di denaro di provenienza illecito, tutto aggravato dal metodo mafioso. L'operazione si era conclusa con la denuncia di 63 persone e il sequestro di circa 3,5 kg di droga e di immobili per circa un milione di euro. Durante le indagini furono anche accertate circa 2.500 cessioni di stupefacenti. Intanto va avanti il processo con il rito ordinario per altre 45 persone coinvolte. tra le quali ci sono i personaggi di spicco dell'organizzazione che aveva allungato i suoi tentacoli sul Molise. Adesso veniamo ai quotidiani dati del bollettino sulla diffusione del Covid. Bollettino diffuso questa sera dall'Asdem, come sempre. Su 501 tamponi processati ci sono solo due nuovi positivi. Uno a Fornelli, un altro a Venafalo. Tasso di positività allo 0,4%. Sono ben 21 invece i guariti. Scendono così a 104 gli attualmente positivi. Non ci sono né ricoveri né dimessi, nessun decesso. Restano 3 le persone ricoverate in ospedale al Cardarelli. Intanto invece una maestra della scuola primaria dell'Istituto Comprensivo di Palata è risultata positiva. È stata così attivata la didattica a distanza. La dirigente scolastica ha disposto in via precauzionale già dal 23 settembre la chiusura delle elementari. Le classi terza, quarta e quinta sono in DAD in attesa di effettuare i tamponi. In caso di negatività il rientro è previsto per il 5 ottobre. Gli alunni della prima e della seconda sono in autosorveglianza sanitaria. I bambini in assenza di sintomi potranno tornare in aula invece il 4 ottobre. Cambiamo argomento sulle concessioni demaniali e scontro tra Confindustria e il sindacato Balneari. Per il presidente degli industriali le concessioni non vanno protratte senza gara. Il Sibreplica è un atteggiamento arrogante e superficiale. Da Termoli sentiamo Andrea Nasillo. Le concessioni demaniali e perambulanti sono motivo di polemica. Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, durante l'assemblea annuale non ci è andato leggero. Non voglio qui toccare il tema delle concessioni balnearie e degli ambulanti. Si commentano da sole le difese di partito, ha detto, perché si continua a protrarle senza gare. Per Bonomi la durata delle concessioni pubbliche va ricondotta ai 5 anni standard europei. Le eccezioni vanno giustificate e ha continuato solo laddove si è comprovato che davvero recchino benefici economici e non siano rendite dei concessionari. Ma i balneatori non restano in silenzio. Oltre al presidente nazionale del Sib, Antonio Cappacchione, che parla di attacco gratuito e arrogante, anche dal vertice del sindacato balneare molisano arrivano dichiarazioni stizzite di amarezza. Mi rammarica che comunque il presidente di Confindustria pubblicamente abbia espresso questa opinione che le concessioni dei maniali vadano a bando il prima possibile. Voglio fare la differenza che tra le concessioni dei maniali per appunto stabilire i balneari, tipo turistico-ricreativo, sono differenti da altri tipi di concessioni, tipo quelle autostradali, che sono tutt'altro. A questo punto viene un po' da pensare male e pensare che comunque evidentemente ci sono delle imprese grandi italiane appunto di Confindustria che hanno interesse nell'acquisire interi tratti di litorale. Quindi oltre a multinazionali che già sapevamo erano interessate al demanio turistico-ricreativo, a intere fasce di stabilimenti balneari, a questo punto devo pensare che ci sono anche industriali italiani che vogliono fare del turismo ricreativo, delle caratteristiche peculiari appunto di stabilimenti balneari, delle imprese enormi, dell'industria del turismo, quindi come delle multinazionali che già sappiamo che sono alle porte per cercare di entrare in questo business che comunque è differente rispetto a altri stati europei in quanto il turismo italiano è fatto di piccoli stabilimenti che ognuno appunto ha proprie caratteristiche differenti da quell'accanto. A oggi in Italia le concessioni demaniali marittime sono estese al 2033. Il presidente della regione Toma, nella sua qualità di commissario straordinario per la ricostruzione post-sisma 2018, ha emanato oggi il decreto con il quale ha approvato il piano di riparazione, ricostruzione di immobili privati e pubblici e di programmazione delle risorse stanziate. Ebbene precisare, evidenzia una nota della presidenza della regione, che le risorse stanziate sono largamente insufficienti a coprire per intero i danni verificati. Si c'è dunque la necessità di procedere alla distribuzione delle risorse disponibili in base ad un piano ragionato sulla base dei principi dettati dalla Costituzione e dal decreto del 2019 che detta le disposizioni relativi agli eventi sismici. Le risorse saranno destinate prioritariamente alla riparazione e ricostruzione delle abitazioni principali, prevedendo inoltre che parte dei fondi stanziati vengano destinati alla ricostruzione pubblica, compresi gli edifici ecclesiastici. E adesso andiamo a Limosano, dove c'è stata una manifestazione di solidarietà, la prima edizione molisana di Fit Walking for Aile. Vediamo di che si tratta nel servizio di Valeria Farina. Solidarietà e condivisione per le strade di Limosano, iniziativa di successo quella organizzata dall'Aile Campobasso Isernia. L'Associazione Italiana contro le leucemie, i linfomi e i meliomi al quinto anno consecutivo con Fit Walking for Aile a livello nazionale arriva per la prima volta in Molise, a Limosano, con una passeggiata di sei chilometri. Siamo qui per la prima volta perché con i volontari abbiamo deciso di portare questa manifestazione nel Molise. Cerchiamo di fare il possibile affinché ognuno possa essere aiutato da noi con queste gocce che poi alla fine fanno il mare. L'evento di beneficenza ha registrato un altissimo numero di partecipanti. È andata benissimo perché come avete potuto vedere c'è stata una grande partecipazione, un po' faticoso per il caldo, però sono contenta perché è andato tutto come doveva andare quindi speriamo che questo riflettore acceso sulle malattie oncoematologiche serva a tutti. L'iniziativa promossa e organizzata dall'Aile Campobasso Isernia è stata patrocinata dall'Amministrazione Comunale di Limosano. L'evento è stato dedicato ad Anna Moroso di Limosano, scomparsa prematuramente lo scorso aprile. È stato un grande onore per noi organizzare questo evento nel nostro piccolo paese e soprattutto poterlo dedicare a mia sorella Anna che purtroppo a soli 42 anni è stata sconfitta, diciamo così, dalla malattia. Però ci ha lasciato in eredità un grandissimo insegnamento che è quello di non perdere mai la speranza ed è proprio per dare speranza a tutti i malati, a tutti coloro che combattono contro il cancro che abbiamo organizzato questo evento. Una notizia di cronaca. L'imprenditore di Guglionisi è arrestato ieri perché trovato in possesso di 50 grammi di cocaina a seguito di una perquisizione nella sua azienda. Ha ottenuto l'obbligo di dimore e quindi revocata la misura degli arresti domiciliari. Ieri pomeriggio il 45enne, ascoltato dagli inquirenti, ha fornito una versione diversa. La droga trovata nell'azienda non sarebbe sua ma di una persona che possiede le chiavi del magazzino. La Brescia-Napoli, manifestazione di moto d'epoca, ha scelto Termoli come tappa del suo tour. Patrocinata dal Comune Adriatico, nasce per valorizzare l'Italia e le culture locali. Servizio di Francesca Danversa. La Brescia-Napoli, manifestazione motociclistica di moto d'epoca, giunta alla sesta edizione, ha fatto tappa a Termoli. 55 le moto d'epoca, raggruppate in 13 equipaggi, partite da Brescia il 22 settembre per arrivare a Napoli, hanno scelto la cittadina adriatica come tappa del tour. A riceverli l'assessore allo sport, cultura e turismo, Michele Barile. In questa sesta edizione, la novità riguarda il progetto più significativo, Down on the Road, due sidecar con a bordo due ragazzi con sindrome Down. Il messaggio che si vuole trasmettere è che tutti possono salire su una moto. L'arrivo in piazza Sant'Antonio ha attirato una folla di curiosi. L'obiettivo della manifestazione è valorizzare il bel paese e le culture locali, scoprire arte, natura e paesaggi in sella a moto che hanno fatto la storia e che vantano ancora tanti sostenitori appassionati. In piazza sono stati allestiti stand delle aziende che hanno sponsorizzato l'iniziativa. Felice di avervi ospitato nella nostra Termoli, ha detto l'assessore Barile, con l'augurio di vederci l'anno prossimo. Alla scoperta dei costumi molisani si è tenuto al Palazzo Municipale di Iserni all'evento dedicato alla vestizione della sposa Negli Agni, a cura dell'ex direttore del Musec Antonio Scasserra. Per noi c'era Barbara Fino. Continuano gli eventi in programma del cartellone del settembre Isernino, promosso dalla locale Proloco. Questa volta a Palazzo San Francesco è il progetto di Antonio Scasserra, ex direttore del Musec, a prendere vita con la vestizione della sposa. Nonostante la chiusura del museo, infatti, Scasserra, convinto più che mai della pubblica fruzione della sua collezione, intende continuare con la sua missione riguardo la conoscenza e la valorizzazione dei costumi tradizionali del Molise, ripartendo proprio da Isernia. La vestizione della sposa, alla scoperta dei costumi molisani, è un educational che sintetizza i risultati di anni di studio e di ricerca ma anche del suo vissuto personale e familiare. Lo scopo è quello di far conoscere ad un pubblico, il più variegato possibile, il giorno più significativo delle ragazze di un tempo, mettendo in scena quella che era realmente la vestizione di una sposa contadina la mattina delle nozze. Si tratta proprio della trasposizione scenica della vestizione di una ragazza che apparteneva alla società contadina dell'Ottocento. Ho avuto qui così l'idea di riproporre quello che era uno dei momenti più importanti della vita di una ragazza, cioè la vestizione delle nozze, la mattina del matrimonio. Era un vero e proprio rito che veniva ufficiato dalla madre della sposa, dalle cognate e dalle donne più anziane della famiglia. C'era proprio una sequenza nella vestizione, prima alcuni capi, poi altri, poi i gioielli. Un rituale arcaico, suggestivo e pieno di significati antropologici che riassume tutta la cultura popolare relativa all'uso dei costumi e gioielli tradizionali particolarissimi. Gli orecchini che erano contro il malocchio oppure le presentose nel quale venivano realizzati due cuori, simbolo di amore dagli orafi agnonesi oppure i lacci lunghi fili d'oro che venivano appuntati a destra o a sinistra simbolo di cuore libero o impegnato. Durante la serata l'ex direttore del Musec ha raccontato il mondo dei costumi tradizionali molisani accompagnando il pubblico presente in una sorta di viaggio nel tempo. Per l'occasione sono stati presentati costumi e gioielli antichi della collezione Scasserra che riguardano i paesi del circondario esernino, tra i più rinomati per i loro abiti tradizionali, tra cui l'antico costume di Isernia che è resposto al Musec e mai indossato da decenni. E adesso invece Giuseppe Carriera ci racconta la storia dei cento anni di nonna Angiolina festeggiata da quattro generazioni e da due sindaci. Il servizio. Una festa sobria ma molto sentita per i cento anni di Angiolina di Iorio, nata nel 1921 a Cerce Maggiore ma residente da decenni alla periferia di Campobasso in Contra Damascione. I sindaci di entrambi i comuni, Mascia e Gravina, hanno omaggiato la centenaria con una targa ricordo. Rimasta vedova 15 anni fa dopo 60 anni di matrimonio da cui sono nati due figli, nonna Angela ha trascorso gran parte della sua vita dedicandosi ai 5 nipoti e 12 pronipoti ma anche ad una quarta generazione della sua discendenza, un bambino di 10 anni figlio di una sua pronipote. Nelle attività quotidiane della centenaria la coltivazione della terra e la cura della salute e la buona cucina. Ancora oggi la sua passione è la pasta fatta in casa che cura personalmente. Passione che come vediamo ha trasmesso anche alle giovani generazioni rendendo le amate pronipoti testimoni dirette della cucina tradizionale di un secolo fa. I nonni sono dunque un patrimonio di conoscenza e valori ma in questo caso anche di ricette dal sapore antico. Bene, questo era il nostro ultimo servizio termina qui l'edizione della notte del Tg di Telemolise grazie per averci seguito vi auguro una buona nottata a domani. Grazie per aver guardato il nostro